Adesso parliamo dei disagi che proseguono per l'erogazione idrica nell'area metropolitana, nel Comune di Chieti che protesta per la mancata comunicazione delle chiusure, anche a Pescara polemiche innescate da una conferenza stampa questa mattina del Partito Democratico. Ne parliamo con la nostra Marina Moretti, dalla sede proprio dell'ACA, che è un po' al centro di queste iniziative, insieme a lei vedo il Direttore Livello. Allora, in diretta a voi Marina. Sì, buongiorno Direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo venuti proprio lì dove il problema o la soluzione nasce. Vedremo se è problema o se è soluzione. Molti dicono che sia un problema. Qualcuno, come per esempio il Partito Democratico, oggi ha segnalato una serie di ritardi, una domanda che doveva essere partita a marzo, ma è partita a maggio per l'approvvigionamento ulteriore dal Tirino e quindi ritardi che hanno complicato una situazione che è già complicata per molti cittadini, che non ricevono sufficiente acqua o addirittura niente, che si vedono riduzioni sia nel flusso che negli orari. Insomma, il problema l'ACA non lo nega e ci mette la faccia anche con il Direttore Tecnico Lorenzo Livello. Ho sentito anche questa mattina più volte la Presidente Giovanna Brandelli che è impegnata in altre cose e che dice, non solo nessuno segnala però quanto abbiamo fatto, che in parte consente per esempio le bagniere blu come Pescara e altri comuni, il fatto che si sia provveduto a sistemare i depuratori e a rendere più pulita l'acqua. È vero, forse non viene ricordato abbastanza, ma è anche vero che al cittadino che apre il rubinetto e gli esce una goccia o ancora nulla, tutto questo interessa relativamente, perché poi uno si chiede perché non si può fare l'uno e l'altro. Insomma, cosa vi serve per sistemare questa situazione? Come ho già detto tante altre volte, il problema idrico è un problema che ormai ci portiamo avanti da tanto tempo. Le perdite hanno un tasso abbastanza elevato, intorno al 50%, che è una media, non dico dell'Italia, ma quantomeno di quella centro-meridionale, sicuramente forse siamo i più performanti. C'è da investire. È chiaro che siamo di fronte a un'emergenza idrica. I dati che ho visto dell'osservatorio dell'Abruzzo centro-meridionale parlano di calo di precipitazioni di circa il 40% degli ultimi due anni, un calo rispetto alla media degli ultimi dieci anni. E noi ce ne siamo accorti perché abbiamo un calo di portate di circa il 10-15%, questa è la paglia di dotazione alle sorgenti. Tant'è che quest'estate, noi facciamo i bilanci idrici delle zone in cui chiudiamo acqua, avevamo una carenza di circa 250 litri secondo, noi ne distribuiamo 3.002-3.003. Quindi questi sono dati inconfutabili. L'emergenza c'è, le falde si sono abbassate. La dimostrazione delle falde basse, c'è stata 15-20 giorni fa, quando ci sono stati quei 2-3 giorni di pioggia intensa, hanno ricaricato immediatamente le falde più superficiali. Le più superficiali dei due sorgenti, quella di Farindola, Vitella d'Oro, e quella di Abbateggio, la Morgia. Però l'acqua dai rubinetti è sempre poca era. Noi abbiamo eliminato le manovre di chiusura per diversi giorni perché avevamo la maggior dotazione. Immediatamente si sono ristabiliti i livelli normali dei serbatoi. Chiaramente tutto questo è avvenuto perché si sono abbassate le temperature e sono anche diminuiti i consumi. Dopo circa 7-10 giorni, le sorgenti hanno ripreso la loro portata normale. Questo perché? Perché è stato un incremento momentaneo della parte superficiale delle falde. Per ricaricare le falde profonde bisogna aspettare le nevi che poi si sciolgono nella successiva estate e quelle porteranno dei benefici più duri. Ecco però io adesso sintetizzo, voi dite comunque il problema a monte abbiamo parlato a lungo prima, è sostanzialmente che vanno fatti dei lavori che per fare dei lavori sulle tubature con la brodo cosiddette ci vogliono soldi e che i soldi che ci sono stati a disposizione non erano sufficienti per sanare quella situazione e quindi sono stati indirizzati magari sulla parte depuratore che invece con quei soldi poteva avere un buon risultato. Adesso si guarda con grande interesse, diciamo così, per non dire proprio attesa al PNRR ma insomma ad ulteriori fondi che in una globalità consentano un intervento più significativo e complessivo. Però sta canzoncina dell'Aspettiamoci vuole tempo tutti i cittadini insomma ne hanno un po' sto ritornello, gli suonano un po' le orecchie da troppo tempo. Allora io quello che dico, diciamo ribadisco quello che ha detto lei il PNRR è fondamentale perché chiaramente abbiamo le reti di 50-60 anni fa sono arrivate a fine vita e diciamo stiamo comunque da anni facendo manutenzioni straordinarie e ordinarie e interventi su tratti di rete ma qui si tratta di fare un colpo importante quasi una demolizione e ricostruzione quasi parliamo anziché fare la ristrutturazione della casetta di campagna conviene poi demolirla e rifarla nuovo stiamo a questi livelli qui quindi qui devo dire all'onore del vero che il CDA ha approvato recentemente un impegno di spesa per fare progetti parliamo di 100 milioni di opere che noi ci siamo subito dati da fare per fare convenzioni con professionisti del settore e stiamo predisponendo progettazioni per 100 milioni di interventi sui comuni dove ci sono maggiori perdite tra cui Pescara con la speranza che poi alla presentazione di questi progetti al Ministero una volta che usciranno le linee guida avremo la possibilità di incamerare questi soldi io posso aggiungere una cosa anche perché il direttore mi richiede la linea che insomma si parlerà di tutto questo dopo domani in un consiglio comunale straordinario convocato a Pescara in cui comunque dei rappresentanti dell'ACA saranno presenti anche per spiegare queste cose certo è che attendere i lavori che deriveranno da possibili fondi che arriveranno dal PNRR insomma sicuramente non farà felici i cittadini quindi nel mezzo bisogna continuare a lavorare e magari anche a invocare Giove Pluvio direttore a te la linea grazie grazie anche perché so che l'ACA domani parlerà del depuratore proprio in un'altra conferenza stampa quindi parleremo anche di quest'altro tema esattamente alle 20.05 abbiamo visto le immagini Marina soltanto per ricordare che ci sarà anche uno spazio dedicato alla conferenza stampa del PD stamattina proprio su questo tema dunque vi rimandiamo a questo approfondimento grazie, buon lavoro